Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero essere in vista di un ritorno a Windsor mentre la coppia ha inaspettatamente rinnovato l'affitto di Frogmore Cottage prima delle celebrazioni del Platinum Jubili, il duca e la duchessa del Sussex hanno esteso il loro contratto di locazione con un contratto di 12 mesi per la proprietà che si trova a due passi dalla residenza del duca e della duchessa di Cambridge e a 10 minuti a piedi dagli appartamenti della regina. Harry e Meghan dovrebbero rimanere al Cottage per le celebrazioni del giubileo con il figlio Archie, 3 anni, e la figlia Lilibet, che compie uno sabato. La coppia reale aveva vissuto nel Cottage per sei mesi infelici prima di abbandonare i doveri reali e trasferirsi all'estero nel 2020. Gli addetti ai lavori reali credono che i Sussex, che hanno una villa da 13 milioni di sterline in California, abbiano in programma di trascorrere più tempo a Windsor. avesse a tutti i nostri errati a tutti i nostri errati al Grazie a tutti.